È stato un weekend che credo conserverò nella memoria perché non solo è stato bello, perché è bello il posto, l'albergo, tutto, l'accoglienza, le persone, eccetera, ma ho imparato cosa significa migliorare il modo di mangiare, migliorare il proprio stato di salute. Io ho sempre pensato di nutrirmi bene, però non avevo capito una cosa fondamentale, come nutrirmi, in che modo, come distribuire i cibi nella giornata e soprattutto avere un metodo alimentare che davvero fa stare bene. Io ho potuto constatarlo, in tre giorni mi sento molto cambiata anche a livello di umore. Chiaro che l'ambiente fa, ma l'addome dice tutto, parla e quindi credo che sia quello. Qual è la cosa più importante? Ho perso due centimetri, ma io sono venuta perché volevo capire a livello alimentare come poter star meglio, per il futuro, non solo per il presente. Questa è la ragione, non era per il dimagrimento, perché non era il mio caso, però sì, per mangiare bene, per capire cosa si deve fare per avere una corretta alimentazione e come avere una corretta alimentazione. Io proseguirò, oltretutto a casa, seguirò sicuramente questo sistema e questo metodo e poi ritornerò, certo che ritornerò, sicuramente. Grazie. 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 Grazie.